Signor Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario Sibilia, finalmente, viene da dire, oggi discutiamo di Roma Capitale e della sua possibile disciplina. Ma non dobbiamo dimenticare, colleghi, che dietro questa problematica c'è l'intreccio diventato inestricabile di una rottura drammatica del rapporto tra territori e istituzioni. Di fronte alle modifiche intervenute nella organizzazione sociale in Italia negli ultimi venti anni, abbiamo tentato di riscrivere il disegno territoriale delle nostre istituzioni, ma il tentativo è stato fallimentare ed è sotto gli occhi di tutti. Occorre uno sforzo culturale e politico per venirne a capo e spetta sicuramente al Parlamento rimettere ordine nel rapporto tra Stato e Regioni, anche a causa del pendolo continuo tra voglia di accentramento e fuga verso il regionalismo differenziato. Nella vicenda sempre più teoricamente e istituzionalmente complicata della disciplina delle aree vaste, i vi comprese le città metropolitane. Altro storico fallimento amministrativo. Si sono abolite le province, per chiarire le aree metropolitane, che sono degli enti fantasmi che farebbero impazzire l'estro letterario di Buzzati, perché sono di un luogo dove nulla accade, non si capisce chi è responsabile di cosa. Finalmente qui approda in aula il compimento della riforma di Roma Capitale. Compimento e già viene da sorridere. Perché vedete, è una PDL costituzionale che modifica l'articolo 114 della Costituzione. Riconoscendo l'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria di Roma Capitale, a cui sono attribuiti poteri legislativi propri, arriva sicuramente e certamente con colpevole ritardo. Tutte le proposte di legge presentate, costituzionali e ordinarie, rispondono alla Comune condivisa esigenza di pervenire ad una soluzione della questione romana, attraverso strumenti in grado di fondare un nuovo patto per la Capitale tra la Repubblica e le sue istituzioni e ovviamente il popolo italiano. Ripercorriamo però le tappe parlamentari, colleghi, perché è bene che chi ci ascolta possa capire perché solo ora, perché con questo ritardo, chi ha fatto, come si dice in gergo, a muina. Fratelli d'Italia ha posto il tema dell'attuazione dell'articolo 114 della Costituzione dalla Fondazione. In occasione della legge di bilancio 2020, Giorgia Meloni e Fabio Rampelli presentarono un ordine del giorno volto a inquadrare il tema e iniziare un percorso di riforma. Un ordine del giorno votato, è bene ricordarlo, all'unanimità da quest'Aula. Un ordine del giorno che nasce anche dai fermenti culturali dell'Osservatorio Parlamentare per Roma, diretto dal professor Corbella, che ringrazio anche per la pazienza che ha avuto nei confronti delle meline che i vari gruppi politici hanno fatto per far finta di occuparsi di Roma Capitale, ma poi in realtà per delegittimare i lavori in parte dell'Osservatorio, che è stato preziosissimo anche grazie al lavoro del professor Indimenticato, del professor Caravita, ma certo non hanno rispettato il percorso che era stato delineato dallo stesso. Un organismo questo che ha funzionato, quello dell'Osservatorio, e per questo lo ringraziamo, da avere proprio osservatoio di idee per le varie PDL costituzionali e ordinarie presentate. Ricordiamo che è lì che sono nati questi testi, che poi si sono confrontati e in parte unificati. Un percorso istruttorio importantissimo che poi ha preso corpo nelle commissioni competenti. Inquadriamo la situazione attraverso un confronto però colleghi con le altre grandi capitali europee. In tutta Europa, vedete, Roma è l'unica a non godere di uno status amministrativo speciale che dia modo di rispondere alle molteplici esigenze di coloro che la frequentano per ragioni di residenza, lavoro, turismo, creando un evidente divario tra i livelli di prestazioni e servizi erogati rispetto alle maggiori città del mondo occidentale. Roma, vedete, non è solo capitale della Repubblica Italiana, ma anche capitale della Chiesa Cattolica e della Cristianità, capitale del Mezzogiorno, sede degli uffici di rappresentanza sede delle ambasciate di due stati, sede di centinaia di uffici commerciali e culturali internazionali, sede della FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e agricoltura e, aggiungerei, capitale del Mediterraneo. Anche l'immenso patrimonio artistico e monumentale di Roma, che spesso ha alimentato anche troppa retorica stucchevole da parte di molte forze politiche oggi al Governo, il cui centro storico è Sito Unesco, spesso si trasforma in un peso per l'amministrazione capitolina, più che rappresentarne una risorsa. Basti pensare, colleghi, al caso paradossale del Colosseo, monumento per antonomasia nel mondo, che rappresenta l'immagine appunto di Roma, l'area archeologica più visitata in Italia, con circa 5 milioni di presenze a stagione, che genera ogni anno incassi per oltre 50 milioni di euro, ripartiti però tra la soprintendenza, che è un ufficio statale, colleghi, e il soggetto gestore, che è un privato, che ha vinto un appalto, che è stato prorogato per anni e anni e anni e anni. Senti caso che rappresenti il Partito Democratico in quest'Aula, insieme a Ceccanti, l'Eco e il Riverbero, perché è del Partito Democratico questa responsabilità. Nonostante i pesanti oneri connessi, Roma non risulta essere tra i soggetti incredibilmente beneficiari nemmeno degli incassi del Colosseo, ovvero milioni di turisti benvenuti vengono a visitare il Colosseo e l'area archeologica, purtroppo la vivono e per fortuna la sporcano, però tutti i servizi connessi sono a carico dell'amministrazione, ma i soldi se li prende lo Stato, e quindi il Ministero, e se li prende un gestore. Pur dovendo provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, appunto, e dei marciapiedi, del verde pubblico prospicente, all'illuminazione pubblica, alla raccolta e al trattamento dei rifiuti, al trasporto pubblico su gomma e su ferro, alla sorveglianza ad opera della polizia locale, che si chiama appunto Roma Capitale non a caso, perché il centrodestra avviò questa riforma, almeno a livello locale, e sicuramente tutti i servizi per i turisti. E vedete, fatemi spezzare più di una lancia, per il parco di Colleoppio, che per chi ci ascolta e non lo sapesse, è tutto lo sfondo archeologico e verde che compare in milioni di foto dei turisti di tutto il mondo. Ebbene, quel parco archeologico versa oggi, con l'interno l'automustario, in condizioni pietose, perché per una fraintesa solidarietà si lasciano delle persone, degli esseri umani a vivere la notte in quel parco ed è trasformato assolutamente in un luogo di degrado e di insicurezza. Investimenti questi che invece meriterebbero di essere adeguatamente ricompensati con la partecipazione agli incassi prodotti. Roma, in antitesi a un purtroppo diffusa e falsa notizia, ha un residuo fiscale e versa nelle casse dello Stato più di quanto riceve a battere uno stereotipo una volta per tutte, anche per gli amici del Nord, che oggi non vedo, che hanno sempre sostenuto il contrario. Va detto espressamente, e lo ribadiamo in quest'Aula, colleghi, quella dei poteri speciali a Roma Capitale è una battaglia storica della destra e di Fratelli d'Italia, che appunto aveva avviato la riforma. È stato uno dei cavalli di battaglia anche della candidatura a sindaco di Giorgia Meloni nel 2016, quindi ne possiamo parlare e discettare con una certa competenza. Già l'Assemblea Capitolina approvò all'unanimità una mozione ai Fratelli d'Italia che chiedeva al Governo in Regione Lazio di rendere concreta la riforma dello Stato speciale per la Capitale d'Italia. E non lo avete fatto. E chi governava? Il Partito Democratico. Lo ribadiamo. Roma non è una città come le altre. Non è Milano, non è Padova, che sono meravigliose città. Non è Palermo, non è Napoli. È comunque la capitale d'Italia. È il comune più popoloso, più esteso, più complesso d'Italia. È il comune agricolo più grande d'Europa, che ogni giorno ospita un milione di persone in più dei suoi cittadini. Un comune che è 12 volte Parigi, 7 volte Milano. Un comune con la maggior concentrazione di beni storici al mondo, che ospita l'università più grande d'Europa, 29 organizzazioni internazionali e appunto lo Stato Vaticano al suo interno. Non solo. Roma è il comune, come dicevo, più agricolo e più grande d'Europa. E questo dovrebbe far riflettere anche qui sul stato di degrado della campagna romana, tanto cara a Cederna. Per questo la capitale non può essere amministrata con i poteri di un comune di mille abitanti. e non ci voleva una scienza per capirlo. E ci chiediamo perché tutte le amministrazioni che si sono susseguite a quelle di centrodestra, per quale motivo non abbiano fatto pressione sui loro emologhi a livello regionale e nazionale. E c'era omogeneità di governo. Bisogna avere il coraggio di affermarlo anche di fronte a un Parlamento che ha dimenticato per decenni, e ha fatto bene il collega Caso a ricordare le date della prima riforma, di occuparsi della capitale d'Italia. Mentre Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania facevano leggi e investivano risorse per garantire a Parigi, Madrid, Londra, Berlino lo status effettivo di metropoli globali, Roma è stata lasciata a se stessa, governata con le stesse regole di un qualsiasi altro ente locale. Parigi ha da poco costituito le Metropole du Grand Paris, un'intercomunità a fiscalità propria che raggruppa la città di Parigi con 131 comuni confinanti, governato da un'assemblea elettiva di secondo livello e un presidente. La superficie della nuova metropoli, pensate, si estende per 814 chilometri, la popolazione di circa 7 milioni di persone. Nel resto della Francia esistono altre nove metropoli, enti a carattere associativo, e un'altra metropoli a statuto speciale, Lione, che assume anche i poteri del Dipartimento. Londra è governata da un ente che amministra 1.579 chilometri, divisi in 32 boroughs e la City of London, oltre 8 milioni di abitanti. Da notare che l'area urbana estesa di Londra è la più ampia dell'area e comprende tra i 12 e i 14 milioni di residenti. Le competenze dell'autorità londinese si limitano a trasporti, polizia, incendi e soccorso, sviluppo e pianificazione strategica attraverso quattro società o agenzie dedicate. I cittadini eleggono direttamente il sindaco e 25 consiglieri, ma vediamo la Germania. La Germania è un'organizzazione federale dello Stato a riflessi anche sulla gestione delle aree metropolitane, molto diversa da zona a zona, che presentano praticamente tutte le diverse soluzioni di governance previste. Nelle città principali vi sono città senza distretto e tre città Stato, Berlino, Hamburgo e Brema. Il sindaco della capitale è quindi anche ministro e capo del governo e corrispondente LEND. La giunta, Senat, è anche il governo e il consiglio comunale, è anche il Parlamento del LEND. La città è suddivisa in 12 distretti con sindaci distruttuali che partecipano alle decisioni della città attraverso l'assemblea dei sindaci. I distretti esercitano unicamente i poteri che gli delega la città Stato. Madrid, invece, è amministrata dall'Aiuntamento di Madrid, il vero e proprio territorio comunale con oltre 3 milioni di residenti, e dalla Comunità Autonoma di Madrid, uno dei 17 enti di area vasta, che assorbe i poteri della provincia e riunisce 179 comuni con oltre 6 milioni di abitanti. È un modello di governo esposto al rischio di dualismo tra i due enti, a causa di competenze evidentemente non ben definite. Le caratteristiche comuni delle autorità metropolitane in Europa, colleghi, sono politiche pubbliche incentrate sullo sviluppo economico, creazione di forti reti di relazioni nazionali e internazionali, sovrapposizione e non sostituzione dei livelli di governo esistenti come accade qui da noi, coinvolgimento nella governance di attori non istituzionali. Il tratto comune che emerge è che ogni nazione si preoccupa di garantire alle aree metropolitane e nei cui territori si concentra la maggioranza della popolazione, strumenti adeguati di governo e relative risorse economiche. In particolare, questo avviene per tutte le principali capitali. I tre decreti di riferimento, DLGS 156 del 2010, il 61 del 2012, il 51 del 2013, hanno trasferito a Roma Capitale poteri e risorse del tutto insufficienti e ridicole per la capitale d'Italia. Con il primo decreto si è solo provveduto a stabilire denominazione e composizione degli organi di governo e poco altro, con scelte anche discutibili. Di fatto non esiste più un ente territoriale che si chiami Roma. Con il secondo si sono trasferite le poche competenze statali nel campo del turismo e della protezione civile, limitando invece i poteri di Roma Capitale nel settore dei beni culturali a mere funzioni di coordinamento tra le soprintendenze e diversi livelli di governo. E vedete, chi vi parla ha governato quel comparto, il comparto culturale, e sa bene quale competizione ci sia e ci sia stata tra la soprintendenza comunale e la soprintendenza statale. Con il terzo sono stati attribuiti stabilmente alcuni poteri straordinari in materia di traffico. Pensate un po', viene quasi da ridere, alla luce dell'inaugurazione del nuovo asse di Via del Tritone, praticamente l'asse immobile, dove se tu inizi ad andare sai quando entri a Via del Tritone, ma non sai quando esci. E con grande giubilo delle nuove aggiunta Gualtieri e prima ancora aggiunta Raggi. Da molti anni il governo delegava ai sindaci delle maggiori città senza risultati particolarmente apprezzabili e sono state semplificate le procedure per rimodulare il piano delle opere, di cui è la vecchia legge per Roma Capitale, la legge appunto del 396 del 1990, che finanziava le opere ritenute strategiche per il ruolo di capitale della Repubblica. Pensate, ero già consigliere all'epoca e pensate quanta speranza avevamo che ci fosse Roma Capitale. Quanto alle maggiori risorse per il trasporto pubblico, queste sono rimaste lettera morta, dovendosi attendere la loro attribuzione previa a un'intesa con la Regione Lazio, che non è mai intervenuta, ma così non si capisce bene, colleghi, perché Regione Lazio vuol dire Partito Democratico e quindi Zingaretti, perché è bene fare nomi e cognomi delle responsabilità di questi ritardi. Non basta dire siamo in ritardo, dobbiamo accelerare, finalmente accelereremo, c'è l'impegno di tutti i partiti, del Partito Democratico, no, perché quando governate poi non avete dato i poteri speciali. Un tema questo che diviene strategico anche in vista appunto del giubileo. Mi fa piacere citare Cederna, a sorpresa, colleghi. La mia Roma è quella che ci deve essere, quindi bisogna dare ogni sforzo perché diventi quella che deve diventare e non quella che molti cercano di distruggere. Come ha indicato anche il Vice Presidente Rampelli in Commissione, non ci riconosciamo pienamente nel testo in esame e quindi esprimiamo lo scetticismo che trasuda dal mio intervento sulla conclusione positiva dell'itero del provvedimento, anche in considerazione dell'esiguo lasso di tempo rimanente prima della conclusione della legislatura. e temiamo, sì colleghi, che questi appelli al facciamo presto siano sinceramente ridicoli perché se volete fare presto avevate il Governo della Nazione e della Regione e di tutti e adesso anche del Comune e forse si poteva fare molto prima sia con la Giunta Raggi sia con la Giunta Qualtieri. I governi che si sono succeduti appunto nel corso della legislatura non hanno creato le condizioni per la soluzione dei problemi di Roma Capitale e neppure il Presidente della Regione Lazio ha adottato alcun provvedimento per devolvere funzioni e risorse a Roma Capitale pur appartenendo attualmente allo stesso partito politico del Sindaco anche se purtroppo a correnti diverse. Non esprimeremo un voto contrario ovviamente sul testo essendo stati i suscitatori del dibattito su Roma Capitale in aula anche in questa legislatura ma di fatto dobbiamo rilevare come nel contempo non sia possibile esprimere un voto a favore in quanto le numerose proposte avanzate da Fratelli d'Italia che pure riscuote nella città il ruolo notevole di primo partito non siano state prese neppure in considerazione se non per piccola parte con un atteggiamento di pregiudiziale chiusura da parte della maggioranza come a dire articolo quinto che non troverete in Costituzione ma a Roma si usa articolo quinto diciamo chi ha il pallone in mano ha vinto ma non è esattamente a quello che si fa riferimento bisogna citare in particolare le proposte volte a configurare l'ordinamento di Roma Capitale come un unicum e non come quello di una qualsiasi regione la questione di Roma Capitale non ha una rilevanza locale ovviamente colleghi ma riveste un'importanza nazionale ed internazionale bisogna richiamare quindi l'attenzione sulla situazione disastrosa nella quale è persa l'amministrazione della città testimoniata anche dall'incendio nella discarica di Malagrotta su cui abbiamo chiesto l'intervento dell'antimafia perché non è possibile che quando nasca il dibattito su un termovalizzatore magicamente va a fuoco l'unica discarica aperta a Roma ricordo inoltre come vi sia stata una chiusura da parte della maggioranza rispetto alle proposte volte a recuperare i contenuti della legge ordinaria su Roma Capitale in modo da consentire l'erogazione alla città di finanziamenti analoghi a quelli previsti in favore dei capitali dei principali paesi europei come a dire intanto dategli soldi se siamo tutti d'accordo che Roma deve essere capitale e ha avuto pochi soldi intanto dategli quelli no quindi per chi ci ascolta valutate in base a quello che si poteva fare e non è stato fatto ritengo come detto come sia fuorviante paragonare Roma alle altre città italiane in quanto il raffronto deve essere compiuto con le altre grandi capitali europee ed occidentali il testo che stiamo esaminando non affronta i temi che abbiamo delineato poco fa e quindi non ha visione in tutte le nazioni del mondo la capitale è considerata un valore tutte le maggiori città si sono dotate di una strategia e di sviluppo e di una pianificazione almeno ventennale mentre Roma no di ventennale c'ha solo i ritardi in un recente studio Roma 2040 per una nuova civiltà il Cresme ha misurato la competitività di 274 aree metropolitane successivamente ha concentrato l'attenzione con un focus su 44 città con oltre un milione e mezzo di abitanti Roma risulta in fondo la classifica in quasi tutti i settori esaminati a livello internazionale la capitale non è competitiva in termini di attrattività né per motivi di lavoro né per investimenti per capacità innovativa la posizione 258 intanto metropoli globali si dotano di piani di sviluppo pensando al futuro London Plan 2050 il piano Gran Paris Amsterdam 2040 il Symbio City di Stoccolma Berlino 2030 il 70% della popolazione mondiale entro il 2030 vivrà negli spazi urbani ma già da oggi una percentuale determinante del PIL mondiale e degli investimenti strategici sono concentrati nelle nostre città vado verso la conclusione colleghi ma ci sarebbe ancora molto da dire e su questo non possiamo non citare la mancanza di visione rispetto ad esempio alla rigenerazione urbana che il centrodestra aveva avviato con Torbella Monaco e Leon Krier mi fa piacere concludere con una citazione di Momsen che si rivolgeva al neo capo del governo Sella non potete stare a Roma senza un'idea universale e colleghi mi sa che voi questa idea universale non l'avete almeno non l'avete quella che aveva Goethe che ci dice e ci ricorda come quello che vuoi concludere concludo con Goethe quando si considera un'esistenza come quella di Roma vecchia di oltre 2000 anni e più e si pensa che è pur sempre lo stesso suolo lo stesso colle sovente persino le stesse colonne in mura e si scorgono nel popolo tracce dell'antico carattere ci si sente compenetrati dei grandi decreti del destino decreti che voi non scriverete mai grazie colleghi a che si